Costanza, il giudice dalla Serbia, Milivoje Urosevic. Allora, pronti? Pastore Maremmano Abruzzese. Pastore tedesco. Pastore bianco svizzero. Border Collie. Beardet Collie. Pastore australiano. Malinois, pastore belga Malinois. Shetland. Allora, anche qui procediamo come prima. Un soggetto scelto dal giudice Urosevic. Ok, Beardet Collie. Grazie. Alano Fulvo. Alano Nero. Alano Blu. Terrier Nero Russo. Terranova. Bovaro del Bernese. Bull Mastiff. Cane Corzo. American Staffordshire Terrier. Bull Terrier. Beddington Terrier. Scottish Terrier. Westy. Jack Russell Terrier. Allora. Allora. Vediamo. Allora. vediamo anche qui dove cade la scelta del giudice fra l'air del terrier l'america il bull terrier il beldington terrier lo scottish il westy e il jack russell ok jack russell andiamo con i bassotti bassotto standard appello corto standard appello duro nano appello corto canicca in appello duro canicca in appello corto canicca in appello corto no Allora, il giudice Allora, quindi anche qui la premiazione sono delle coccarde, delle bellissime coccarde offerte dalla Royal Caninque Abbiamo il Caninque in appelo duro, grazie agli altri Quinto gruppo Grazie a tutti Ok, World Speed Allora, sesto gruppo Rodecian, Ridgeback, Segugi Italiano Brick, Brick, Grifon, Van Den, Beagle Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, settimo gruppo Ok, allora, rimanga qui il Segugi Italiano Allora, Weimar Runner Quenter, Grifone francese, Vizla e Pagnel Breton Allora, vediamo qua dove cade la scelta del giudice Quenter Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Allora Allora, Lagotto Allora, nono gruppo, quello della compagnia Allora, Barbone, Grande Mole, Grigio, Grande Mole, Bianco Nano, Marrone, Cavalier, Boston Terrier, Bolognese, Maltese, Carlino, Cin, Pechinese Allora, Turigo Allora 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 Allora, pie ecco qua il carlino scelto per i levrieri abbiamo un greyhound un whippet e un piccolo levriero italiano per i levrieri ok ci siamo possiamo riprendere posizione ragazzi ecco qua i dieci finalisti un bearded collie un pastore dell'asia centrale un pointer un jack russell un bassotto nano a pelo duro un warspitz un segugi italiano un lagotto un carlino è un greyhound allora ci siamo i veterani intanto nel pre-ring allora il giudice sta salutando premia e classifica al terzo posto lagotto romagnolo al secondo posto in questo raggruppamento pastore dell'asia centrale vince fuente fuente fuente